Il rinoceronte rumoroso Rino? Il rinoceronte era sempre raffreddato. Rottava rumorosamente e rossava con un treno a vapore. Gli altri animali della riserva lo evitavano, infastiditi dai suoi rumori. Un giorno Rino decise di recarsi dal dottore della giungla. Dottore che posso fare? Chiese disperato. Il rimedio fu sorprendente. Rotolati tra le rose rosse e ridi a crepa pelle. Rino, un po' scettico, provò. Si rotolò tra i roseti, sentendo il delicato solletico dei petali. Iniziò a ridacchiare. Poi a ridere, infine a sbellicarsi dalle risate. Rise così tanto che il raffreddore sparì in un attimo. Ora Rino sbuffa e soffia felice. Non russa più ed è circondato da tanti nuovi amici nella riserva. La risata, dopo tutto, è la migliore medicina.